Piacevole momento quello che si è verificato nel mare calmo di Apani, che si trova poco a nord a Brindisi, questa magnifica città che è ubicata in Puglia, dove un cucciolo di delfino è stato notato in difficoltà del mare tranquillo e calmo. Molti quindi si sarebbero prodigati per fargli riprendere in largo, ma saltando tra bimbi incuriositi e meravigliati, il delfino in questione, questo animale così bello e così affascinante, pensate che piruettava verso la riva, come se in qualche maniera amasse, o meglio desiderasse, giocare con i bambini che erano presenti in loco. Vi ringrazio per la visione in primis, vi ringrazio per l'ascolto in secondis, come avete ascoltato, il delfino sembrava davvero stare a bene, stare a suo agio in compagnia di quei bambini che con molta dolcezza si sono divertiti a accarizzarlo e al tempo stesso a notarlo. Ci troviamo, ripeto, a Apani, che si trova a nord di Brindisi, poco a nord di Brindisi questa città, che è ubicata in regione Puglia. Grazie, un chiaro saluto, iscrivetevi al prossimo video da Narratore Italiano.